Siamo qui dopo la partita di ritorno del Pallio Fander 21, una grande vittoria per 4 a 1, intervistiamo il nostro capitano Stefano Ferrari e gli chiediamo subito cosa deve essere il risultato della partita effettuata. Buonasera, siamo abbastanza soddisfatti del risultato, era importante passare soprattutto per coronare in qualche stato un bel campionato. Siamo partiti abbastanza sotto tono nel primo tempo, abbiamo preso un gol veramente da non prendere su una distrazione difensiva, poi nel secondo tempo siamo riusciti come sappiamo a giocare col processo Balla e abbiamo fatto il risultato. E adesso ci aspetta il successivo di finale, l'avversario sarà o Mestre o Verano, cosa ne pensi? Credo sarà una bella avventura, secondo me possiamo giocarcela con chiunque, anche visti i progressi che stiamo facendo su diversi giocatori, su Guter, su Mirko, stanno crescendo molto. Abbiamo tutte le carte in regola, andremo a giocarcela e si vedeva. Ringraziamo il nostro capitano per l'intervista rilasciata e bocca al lugo per il futuro. Crepi, ciao! Ringraziamo il nostro capitano per l'intervista rilasciata!